Santa Lucia avrà fatto certamente un ottimo lavoro, grazie alle nostre esortazioni. Mi raccomando, scegli quello giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanellina. Finalmente potrai capire i cittadini di Darfo Boario Terme quando, disperati, esclamano Avevamo già visto il potaverbo mangiato fuori, ma oggi ti facciamo sentire una evoluzione pazzesca. Hai presente Piero Vapore? Gli ho detto così di non mangiare fuori la paglia del basto. Piero Vapore sappiamo già chi è perché lo abbiamo incontrato qualche puntata fa. Ne ha combinata un'altra delle sue. Ghe' presente Piero Vapore? Goditisce le mie maiafo, la paglia del basto. Il povero Piero Vapore non ne fa una giusta. Questa volta non fa nessuna parte di invidia, ma la sua vita dissoluta lo ha condotto sull'astrico. Ecco Silvia che cerca di richiamarlo all'ordine. Hai presente Piero Vapore? Gli ho detto di stare attento a non sperperare tutto, altrimenti andrà in malora. Ti devo una piccola spiegazione su questo potaverbo. Innanzitutto il basto. Il basto è quella cosa che veniva attaccata all'animale per poi appendervi i carichi da trasportare. La paglia veniva messa tra il basto e il dorso dell'animale per rendere meno doloroso lo sfregamento. Eliminare questa paglia, mangiandola fuori, significa dare fondo alle proprie sostanze danneggiando persino il proprio lavoro. Una tua amica di edolo al telefono ti sta dicendo che suo marito è partito per il Djibouti, per andare a lavorare sulle piattaforme di estrazione del petrolio. Eviterai con attenzione di chiederle cosa significa fa paola, ma poi ti metterai in rete cercando disperatamente il significato. Fare paola, fare paola, farsi paola. Dopo due giorni di ricerche incapperai finalmente in questo video, in questo canale e avrai la tua spiegazione. Fa paola significa soffrire nel superare situazioni delicate. Quindi ricorda, milanese, per mettere in guardia i tuoi amici dallo sperperare migliaia di euro in regali di Natale, potrai usare un efficacissimo... Fa minga il bar la fisse. Non è che puoi mangiare fuori la paglia del basto per due regali di Natale, su. Donaci un like e se sei un lavoratore bresciano sulle piattaforme petrolifere in Djibouti, suggerisci altri potavers. Forse è meglio che mi trovi un lavoro vero. Tu che dici? Al fare furro, ma fare parerlo qua, e, ma dopo, staganiere, io non ne ho mai argoto. Chiuditi.